Buon pomeriggio a tutti ragazzi e io in questo nuovo video parleremo ovviamente del 34esimo episodio di Angry Shark World Ma c'è un problema non è che possiamo andare sopra la spiaggia e dobbiamo andare sotto Perché? Ve lo dico io il perché Ma di tutto lì ci sono più 130 80 gradi sotto zero ecco 80 gradi sotto zero E quindi non si può E poi a parte che c'è il ghiaccio nel mare E non posso uscire dall'acqua perché è troppo duro Deve fare un po' di caldo se devo spaccare il ghiaccio Beh vi auguro una buona missione ok Ecco Riscattiamo la ricompensa del giorno Non mi importa nulla Sì mi devo importare Squalo mangia nera Beh basta chiacchiere Per l'otto Ok Settecentocinquanta medusa ragazzi Ho sbagliato Ho sbagliato L'acca Ecco Questo Che non è il pacifico No No la rabbia Pacifico Ho sbagliato posto Ancora è troppo presto per questo squalo Ci sono Squali mostruosi E non è adatto Se poi c'è gli squali XZ Una balena Ma non posso mangiarmi Prossima tappa Dove è la U Lì Ok Andiamo Esce volpe o squalo volpe Quello che è Vero non li posso mangiare Se avevo uno squalo piccolo Ero già morto Raga Hai capito ragazzi Già morivo Se avevo uno squalo piccolo Un sacco di calamari L'inghiostro fa perdere un sacco di vita Perché è come una difesa per loro Tu che vuoi No ho sbagliato Ok L'N L'N Dove è la N Lì Va bene Andiamo Su Dietro front Ritto diritto Dobbiamo andare Stiamo andando diritto Perfetto Che meraviglia Che meraviglia La Già La Già La Già Lì Nel redditto del Galeone Il mare rimane sempre lo stesso Perché è nel Pacifico Ma se comincio a salire L'80 gradi sotto zero Ci sono L'acqua invece è sui 50 Che il mare è più caldo Prossimo Non ci arrivo Non ci arrivo Vero Sì dai Ci arrivo Ci arrivo Basta stare attenti L'Ajupslon 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 Raga Dove può essere L'Ajupslon Ok Vicino sono Un sacco di squali tigri Ho incontrato Dove può essere Ah di sotto Proviamo di sotto Ecco qui Se no Non ci passo Livello nove Allo spie Ah allo spiedo Non avevo capito la domanda Facciamoci un bel giro Quelli sono i sommozzatori Quelli che hanno la foccina Iniettono una specie di puntura agli squali Ed è come qui sulla corrente Del nord E stare attento T'ho fatto esplodere il sottomari Bello Se non c'è nessun titolo Faremo questo Non la devo toccare Nemmeno quella Che idiota Non so se è l'acqua gelida A farmi fare questi sbandi Non posso toccare nulla Non posso toccare nulla Dove stai andando Ti faccio scoppiare Aspettate Aspettate Ricominceremo da capo Ah dal venti stavolta Quindi si deve arrivare come livello Andiamo Andiamo Ma sappiate Che farà un freddo Forte Bene Eccoci qui Staremo sott'acqua Ci saranno 100 gradi sotto zero Anziché 180 170 scusate Gli squadri nemesi Amma mia che freddo Che freddo Mi viene anche a me Ah Le lettere dell'artico Vediamo E ti pareva Uno scuolo Bianco Come posso Distruggerlo Qua medusa Non credo che ce ne sarei Attenzione Mi pare Mi pare che qui ce l'ho La mappa Sì Sì ce l'ho La mappa Ci sono un sacco di iceberg Ah ci sono le meduse blu Al posto Al posto Tu la pagherai cara Per questo scuolo gobine Hai commesso un errore E non so Che diavine Ma che No l'avete visto Che cos'è Una bomba B Proprio Un fatto Assurdo Che cos'è No, no, no. Ah, ho capito. Sono dinamite. Ma le pietre a che servono? Secondo voi? Io non sono un esperto. Quando io ci giocavo non è che c'erano queste cose di una novità. Attenzione. Porca. Possiamo divorarlo. I pinguini. Ma i pinguini che ci fanno qui? Non dovrebbero stare. Ok. La U. Aspetta. Ti pareva maledizione. Dove può essere quella dannata lettera che io sto rischiando perfino la vita? Ho trovato la G. La Yulson l'ho raccolta a caso, l'ho trovata. Non registravo, scusatemi, ok? La G si troverebbe lì. Ma la risposta è come ci arrivo? Aspettate che... Livello 10. Ma non era questo. Squalo bocca grande. Questo ce lo avevamo già. Ormai l'abbiamo completato tutto. Aspettate. Aspettate. Sigue. Ah, explosivi si chiama. Ecco che serve. Quando diamine... Cioè, guardate questo squalo. Quanto tempo c'è voluto per ammazzarlo? Ecco quali sono gli squali nemesi. Gli squali nemesi sarebbero questi? Gli squali rossi. Shark red. Aspettate. ... Ecco... Mega... Amread. che significa mega martello. Un'altra pietra, se moriamo, moriamo, eh. I narvali. I narvali. Occhio agli squali bianchi. No, non resusci. Già siamo a 21 minuti. Nell'artico ancora siamo. Beh, è il video del 34esimo episodio di Angry Shark World e si può congoderlo qui, ok? Beh, ci spero che questo video, ovviamente, di Angry Shark World... Ehm... Fa così freddo e da pazzi venire in questo luogo. Vi sia piaciuto il canale? Mi raccomando, mettete un bel like, seguite su Instagram. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti! 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 Ciao a tutti!